Mercenary Kings potrebbe essere confuso per l'ennesimo tributo ad una pietra migliare come Metal Slug o Contra. Tuttavia, le influenze che i ragazzi del team di Tribute Games hanno inserito in questo loro esordio su console sono così ben amalgamate da risultare molto più di una semplice somma delle loro parti. Mercenary Kings non è un gioco che si può affrontare martellando perennemente il tasso di fuoco, e tanto la prima arma in dotazione quanto i primi nemici incontrati lo dimostrano. La necessità di cambiare caricatore ogni sette colpi spazza via infatti la tentazione di gettarsi in un'allegra sparatoria indiscriminata. I pattern d'attacco nemici, pur non risultando complicatissimi, devono essere assimilati nel minor tempo possibile, complice a un'energia che tende ad esaurirsi con facilità. Gli incarichi sono divisi in vari gradi di difficoltà, all'interno dei quali è possibile selezionare le missioni a seconda degli obiettivi richiesti, che possono variare tra salvataggio di ostaggi, neutralizzazione di particolari nemici, raccolta di materiali e altri ancora. Sul lungo periodo questo sistema soffre in alcuni momenti di una certa ripetitività, mentre alcuni potrebbero non digerire una diversificazione dei nemici buona ma non eccelsa, e diversi limiti di tempo massimo imposti per il completamento delle missioni, non tutti calibrati alla perfezione. Fortunatamente questi elementi vengono controbilanciati dalle sempre ottime boss fight dinamiche, e da un sistema di crafting che non appena raccimolate le prime risorse diventerà il cuore pulsante di Mercenary Kings. Come nel più classico dei sandbox infatti, la fauna nemica rilascerà una vasta gamma di materiali con i quali assemblare armi sempre nuove. All'interno del campo base, tra una missione e l'altra, sarà infatti possibile costruire il proprio arsenale con una quantità sempre crescente di opzioni. Nel procedimento sarà necessario tenere in considerazione tanto le nuove abilità fornite da particolari modifiche al proprio arsenale, quanto gli eventuali effetti collaterali che le stesse potrebbero comportare. Ad arricchire l'esperienza in solitaria c'è anche una modalità online definita public, nella quale ogni altro giocatore potrà entrare nella nostra partita e accompagnarci durante le missioni. In questo caso il matchmaking non svolge sempre bene il suo dovere, e molto spesso vi capiterà di condividere la partita con giocatori dell'equipaggiamento molto più avanzato o arretrato del vostro. In ogni caso la modalità multiplayer, disponibile anche in locale fino a 4 giocatori di Mercenary Kings, rimane in assoluto la più divertente del titolo. Ottimo il lavoro svolto dal team di sviluppo anche dal punto di vista tecnico, con mappe ricche di passaggi alternativi ed egregiamente colorate, che accolgono sprite bidimensionali ben disegnati e ricchi di animazioni. Meno riuscite le musiche di sottofondo e gli effetti sonori, che riportano in vita tutta l'atmosfera degli anni 90, senza rimanere tuttavia impresse nella memoria per via di una qualità troppo altalenante. Accantonati i facili paragoni, Mercenary Kings si dimostra un cocktail di esperienze, meccaniche e strutture di gioco tra i più riusciti dell'ultimo periodo. Grazie ad un'inaspettata profondità, si rivela un titolo consigliatissimo per gli amanti degli shooter 2D vecchia scuola e degli sparatutto multigiocatore, ed è praticamente obbligatorio per ogni possessore di PS4, vista la ancora non ricchissima offerta di titoli all'interno dello store online Sony e la sua disponibilità gratuita per il mese di aprile tramite il servizio PlayStation Plus.